Ero bagnato fradicio e coperto di fango e avevo fame e freddo ed ero lontano 50.000 anni luce da casa a combattere su un mondo straniero e a chiedermi se ce l'avrei mai fatta riportare indietro la pelle. Adesso c'era arrivato anche il nemico su questo fottuto pianeta. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Era stata la guerra, subito. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica e adesso bisognava combattere con i denti e con le unghie. Vedi uno di loro strisciare verso di me, presi la mira e feci fuoco. Il mostro emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. La vista del cadavere mi fecero brividire. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame.